In questo video vediamo la mia strategia di copy trading attivo proprio live in azione ragazzi. Allora, sono sull'app di BitGet, BitGet è appunto il broker che utilizzo per fare copy trading sulle criptovalute, anche trading. E in questo caso vediamo proprio il copy trading attivo. Ho aperto una posizione short su Ethereum basandomi sulle posizioni dei trader che sono andato a sbirciare. Adesso vi spiego tutto. Prima vi voglio ricordare che se volete fare copy trading, anche voi guadagnare in modo passivo delegando un po' del vostro budget ad un trader professionista, bene, potete utilizzare BitGet. Ho fatto un sacco di video su questo canale. Nella descrizione trovate tutti i link ai miei video tutorial. C'è il tutorial su come aprire il conto, su come registrarsi e come scegliere proprio tecnicamente il trader, come impostarlo. Puoi mandarseli praticamente su BitGet. Trovate tutto ragazzi nei link in descrizione. C'è la mia strategia su come non perdere soldi, che vi permette appunto di impostare il tutto per proteggere il vostro profitto. Ci sono gli errori da non fare per non bruciare il conto. Trovate tutto in descrizione. E in descrizione trovate anche il link per iscrivervi a BitGet e ottenere il 15% di sconto a vita sulle fee. Quindi quando fate trading o copy trading risparmiate il 15% su tutte le operazioni che aprite. E poi se lo fate entro il 30 novembre, manca una settimana, se vi iscrivete e fate il primo deposito entro il 30 novembre, ottenete il 10% fino a 1000 dollari di deposito indietro. Cioè quello che depositate fino a 1000 dollari vi ritorna indietro il 10%. Quindi se mettete 10 dollari, vi tornano 100 dollari. Allora io sono andato, ero qui sull'app di BitGet, sono andato su copy trading e ho visto un po' di trader. Allora molti erano praticamente fermi, però ho visto questo Andromeda, che non è il trader che io seguo, ma che attivamente sono andato a sbirciare i suoi ordini. E ho visto che aveva aperto oggi, mi raccomando notate sempre, guardate sempre la data. Oggi 23 novembre aveva aperto tutti questi short su Ethereum, che non gli erano andati bene. Però è super short, ne ha aperti altri in diversi orari, a diversi prezzi, quindi lui ha aperto anche su Bitcoin, ma non ci interessa, su Ethereum, io perché ho seguito lui su Ethereum. Poi ne avevo trovato anche un altro, io non ricordo chi fosse. Forse lui non ha niente, vediamo la King Boy, forse no, non sta operando, trust me. Avevo trovato anche un altro trader che stava shortando, forse T1. Allora T1 ha delle operazioni aperte, almeno 385%, aperte il 16 novembre e non va assolutamente bene. Lui non le chiude le operazioni. Ok, qui è lungo su Ethereum, è andato lungo su Ethereum, ma il 20, ovvero tre giorni fa, non ci interessa. Vediamo se era work, ordine nulla, vediamo, ne avevo visto un altro che mi aveva confermato, diciamo, lo short su Ethereum. Allora ragazzi, questi non sono consigli finanziari, diciamo che non è il massimo il copy trading attivo. Se volete fare praticamente trader, se volete fare copy trading, cioè è meglio se lo fate nel mondo classico. Io sto seguendo lui in questo momento, Namo Amitaba, guardiamo, non ha ordini, però vedete, ha fatto dei bei profitti in questi giorni, solo profitti, ecco. Tranne questa perdita del 4,37%, quindi se lo volete seguire, io sto seguendo lui. Qui, vedete, ho questo budget, avevo 900 USDT, perché vi faccio vedere che cosa avevo aperto. Ho aperto un'operazione quindi short su Ethereum, se vado su Future, qui vediamo, sto perdendo il 6.41%, 56 USDT. Avevo aperto un'operazione leva 20 short, adesso vediamo come va. Il prezzo a cui ho preso, scusate l'italiano, il prezzo a cui ho acquistato è a 1.159, ok? Quindi adesso è risalito, sta salendo, però adesso vedete, 1.162 sta riscendendo, era arrivato fino a 1.169. Quindi adesso vediamo, ci vuole un po' di pazienza, però probabilmente nel momento in cui va a toccare, diciamo, a raggiungere il prezzo di ingresso e anche ad andare più sotto, io faccio un profitto e questa è un'operazione di copy trading attivo. Sono proprio andato a cercare, a vedere manualmente cosa stessero facendo gli altri trader, ho trovato un paio di trader, non mi ricordo chi fosse il secondo, che però stavano shortando Ethereum. Allora questo ha degli ordini aperti ma sono vecchi, questa cosa controllatela sempre. Se volete imparare come scegliere bene il trader e come impostare il tutto, anche come impostare la leva per proteggere il capitale, ragazzi guardatevi i miei video in descrizione, se volete provare. Io sto condividendo qui la mia esperienza, ci stiamo divertendo, però ecco, si perdono soldi, fate le vostre dovute considerazioni, non sono consigli finanziari, questo lo devo dire sempre. Io ci ho perso 2.500 USDT, dollari praticamente, che avevo guadagnato in 20 giorni, quindi possono arrivare delle batoste incredibili, quindi state attenti, ecco perché ho fatto anche il video su come impostare, diciamo, una strategia che protegge il capitale, più che andare aggressivi a voler guadagnare tanti soldi. Quindi fate le vostre dovute considerazioni, sempre, non dovete decidere di mettere mano ai vostri soldi, di spostarli solo perché avete visto dei video su YouTube. Io qui vi proprio condivido a cuore aperto quello che faccio, addirittura stiamo vedendo qui in tempo reale questa operazione, chissà se andrò in profitto live, in questo momento siamo al meno 7%, però in descrizione avete tutti i link dei miei video, magari qualcuno ve li metto anche nelle schede. studiate, valutate, poi se volete ovviamente vi invito ad utilizzare il mio link per entrare, perché così avete un risparmio a vita del 15% sui costi vivi del trading, quindi ogni volta che apriamo un'operazione su BitGet, come su qualsiasi altro broker, noi paghiamo delle commissioni. Bene, utilizzando il mio link abbiamo queste commissioni ridotte del 15%, che non è male. Allora, in questo momento 1162 Ethereum, sto perdendo 54 dollari, ok, sta scendendo, quindi il copy trading attivo, diciamo che avere l'app sul telefono è pericoloso, vi fa aprire posizioni compulsive, non fatelo ragazzi, se non sapete niente di trading, praticamente il mio consiglio è affidatevi ad un trader, qui ce ne sono tantissimi, la piattaforma ci dà tantissimi dati per scegliere, ok, ci dice il numero delle posizioni che ha guadagnato, in questo caso guadagno 427, perdite soltanto 4, da quanti giorni è attivo? Questo ha aderito da 15 giorni, troppo poco, per avere uno storico, ok, però possiamo valutare. Tutte queste cose le ho spiegate negli altri video, andateli a vedere, ve li ho messi sia nelle schede ma trovate l'elenco in descrizione. Vediamo se trovo qualcuno che ha ordine, niente, qualcuno, 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 questo ha 202 transazioni, da 16 giorni è aderito, vediamo se in questo momento, in questo momento lui, attenzione, no, è il 20 novembre che ha aperto queste posizioni, non fanno testo, state sempre attenti che non abbiano ordini, questo ha aperto su ApeUSDT, non ci interessa, good lucky, ordine 20 novembre, 23 novembre, lungo su Ethereum, attenzione, attenzione, lui è contro il mio ordine, ma noi intanto stiamo scendendo ragazzi, stiamo scendendo, Ethereum sta scendendo, siamo a 1161, prima era a 1160, chissà se riesco live a almeno fare un piccolo profitto, almeno recuperare anche i soldi, quindi copy trading attivo molto molto rischioso, dobbiamo trovare più trader che stanno praticamente andando nella direzione dell'ordine, per esempio in questo caso ho trovato due trader, forse sono pure pochi, che stavano shortando Ethereum, dobbiamo controllare che la data sia quella di oggi, ragazzi, ok, cioè del giorno in cui volete fare un'operazione da soli, allora non so se ve l'ho fatto vedere, per aprire la posizione da soli basta andare dal cellulare, è molto semplice, dobbiamo spostarci i nostri soldi, andiamo su asset, ovviamente se ce li abbiamo su spot dobbiamo avere i soldi su future, e poi ovviamente andiamo su future, se vogliamo acquistare qualcosa e acquistiamo direttamente da qua, intanto sto recuperando, sono almeno un 37%, solo 11 dollari, tra un po' forse andremo in profitto, chi lo sa, quindi per, torniamo alla home, ok, sta scendendo, ecco 1,59, attenzione, stiamo per andare in profitto, bellissimo live, cercherò di fare un guadagno live, così da fare un super titolo al video, allora, per acquistare noi, mettiamo che siamo andati nell'app di BitGet, vi siete iscritti, avete scaricato l'app, vi ricordo per iscrivervi in descrizione c'è il link per praticamente avere il 15% di sconto a vita sulle fee, quindi utilizzate il mio link per iscrivervi a BitGet, poi guardatevi i miei tutorial per acquistare gli USDT, trasferirli, metterli dal conto spot al conto future, vi ho spiegato tutto, ci sono tutti i link in descrizione, andate su copy trading, no, e guardate i trader, praticamente, no, ad un certo punto vedete che 3, 4 trader, controllate la data, la data, andiamo qui sotto per esempio, tuombradi, ecco, questo è da 43 giorni, è interessante quando trovate qualcuno che è da più tempo, è da più di un mese, vediamo i suoi dati, ha praticamente su 333 ordini di trading, ok, 331 il guadagno e le perdite solo 2, ottimo, in questo momento lui, no, queste operazioni vedete sono del 20 novembre, non le ha chiuse, però ne ha aperta una lunga su Ethereum il 23 novembre, quindi lui è in contrasto, però mettiamo il caso che abbiamo trovato più persone che stanno andando in una direzione, vogliamo aprire noi manualmente l'operazione, vede, dal cellulare basta andare su future, qui abbiamo su in alto c'è la coppia Ethereum e USDT, se clicchiamo sui tre trattini in alto a destra possiamo mettere tutte, scegliere il nostro elenco di future, di coppie che vogliamo tradare, dopodiché impostiamo qui su, dove vedete limite, mettiamo mercato, ordine di attivazione o arresto finale, se volete comprare subito mettete mercato, e quindi potete comprare subito, mettete la leva qui in alto a destra, regolate la leva e poi si chiudi, poi ovviamente che cos'è questo incrociato? No, deve essere su isolato, mi raccomando così avete, spendete soltanto il budget che avete destinato sui futures, e poi fate acquisto lungo e acquisto corto, qui impostate il prezzo, se tutti gli USDT o una parte, e poi acquista lungo e acquista corto, ok ragazzi, in questo momento sto perdendo 20 dollari, sarebbe bello andare live, almeno fare un piccolo profitto, però questo è, è molto rischioso ragazzi, il mio consiglio è, non fate copy trading attivo, è una cosa che ho fatto io, così anche per creare contenuti, perché diciamo che anche questi contenuti, io li faccio per intrattenimento, per anche condivisione della mia esperienza, per farvi conoscere cose nuove, però poi fate le vostre dovute ricerche, i vostri approfondimenti, in modo da valutare bene voi, e decidere voi come destinare i soldi, ok? Quindi, se invece non volete fare copy trading attivo, ovviamente cercate un bel trader, tutto sta nel trovare un bravo trader, limitateli, abbiamo visto che non serve a niente, praticamente, seguire completamente il trader, perché c'è un problema, noi non abbiamo il budget del trader, quindi lui può aggiungere budget, oppure si aggiungere budget alla posizione, noi non abbiamo lo stesso budget, molto spesso lo copiamo con 2-300 dollari, mettendo 50 dollari, 50 USDT a posizione, quindi lui magari usa una leva troppo grande, quindi il mio consiglio è, impostate una leva dal 10 ai 20, massimo 20, se potete fate 15, 10 è l'ideale, piccolo capitale per singola operazione, basta andare poi nelle impostazioni avanzate, trovate tutti i miei tutorial in descrizione, ci sono i link, c'è proprio il video su come settare il trader, e poi fa tutto lui, guardatevi tutti i video, e se volete io vi aggiorno, adesso per questo video si conclude qui, non riesco a fare profitto, però avete visto che ho recuperato, vediamo se riusciamo a fare un piccolo profitto, magari vi aggiorno quando questo succederà. Allora ragazzi è passata, sarà passata un'ora, il prezzo è sceso sotto i 1.159, ho fatto stop e ho premuto record, sto guadagnando 63 dollari, e il problema del copy trading attivo è appunto che non sai quando chiudere l'operazione, perché tu hai fatto solo copy trading, ma l'hai fatto attivamente, non è che puoi andare a vedere il trader, che cosa sta facendo, oppure non hai fatto trading, non hai fatto tu l'analisi, non sai, e quindi il problema è non sai quando chiudere la posizione, però stiamo facendo un guadagno di 63 dollari, stiamo facendo il 6,84%, io ero a 900 USDT, ora sono a 942, credo che chiuderò, anche perché ho fatto tutto questo solo per fare il video, per farvi vedere, per guadagnare in diretta, 60 dollari vanno bene, ci avrò in un'ora, un'ora e un quarto, che ci ho messo per fare questo video, siamo a 68,69, 70 dollari, attenzione, continua a scendere, sta scendendo, siamo sui 1154, e probabilmente continuerà a scendere, ok, comunque per stoppare l'operazione, siamo a 76 USDT, 74, basta andare qui su chiudi, e io intasco la mia vincita, siamo a 82, attenzione, lascio ancora andare un po', comunque potete vedere che, in questo caso, la strategia, sono a 956 USDT, la strategia del copy trading attivo, funziona, sta scendendo, a 1153, siamo a 84 USDT, di guadagno più 9%, 9,29%, in questo caso, il copy trading ha funzionato, ci vuole un po' di pazienza, ma in un'ora e un quarto, un'ora e venti di video, diciamo che, vabbè, poi ho interrotto il video, se non veniva troppo lungo, però, ci ho messo, ecco, anche se il video magari è di 20 minuti, ci ho messo un'ora, per farlo, un'ora e venti, appunto, perché è stato, ci vuole il tempo, appunto, per far scendere il prezzo, in questo momento, stiamo guadagnando 86 dollari, che faccio chiudono, non chiudono, 974 USDT, io direi che mi va bene così, faccio chiudi, 78, aspetta, aggiorniamo, 967, che mi va più che bene, ragazzi, mi va più che bene, 80 dollari, 82, 87, 84, sta scendendo, scende, voglio chiudere però, la posizione in diretta, nel video, almeno, hanno 101 USDT, 111, 111 chiudi, facciamo tutto, conferma, e abbiamo chiuso ragazzi, wow, 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 vediamo, 998 USDT, quasi 100 dollari, 100 USDT, lui sta continuando a scendere, però vabbè, come si dice in gergo, vendi e pentiti, era così? vendi e pentiti, va bene, questa è la strategia, la strategia del copy trading attivo, se volete fare copy trading, passivo o attivo, copy trading, vi consiglio quello normale, andate in descrizione, ci sono tutti i miei video, e, praticamente, guardatevi tutti i tutorial, e in descrizione c'è anche il link, per iscrivervi a BitGet, e avere il 15% di sconto sulle fee, ok? 15% di sconto sulle fee, quindi a vita risparmiate, quindi link in descrizione, iscrivetevi a BitGet, ovviamente, guardatevi tutti i video, fate le dovute considerazioni, non sono consigli finanziari, io condivido la mia esperienza, si possono perdere soldi, come vi ho fatto vedere, vi faccio vedere quando guadagno, ma vi ho fatto vedere anche quando ho bruciato, 2.500 dollari, quindi state attenti, io qui condivido solo la mia esperienza, e intrattengo voi, se decidete di fare copy trading, studiate, ok? Ovviamente, poi, se volete, usate il mio link, perché risparmiate il 15% a vita, sulle fee, ok? Questo già, ridurre i costi è buono, e poi c'è l'offerta, se vi iscrivete entro il 30 novembre, vi ritorna indietro il 10% sul primo deposito, fino a 1000 euro, grazie a tutti ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!